ho dovuto fare altri video perchè ero impegnata con la scuola e il pattinaggio e oggi stavo pensando di fare un bellissimo video di questo video vorrei 100 like e mettete mi piace ciao a tutti voi ragazzi e benvenuti in questo bellissimo video oggi stavo pensando di fare questo minimo piccolissimo video perché stavo pensando per altri giorni facendo qualcosa di più divertente a voi e ci stavo pensando tante cose quindi in questi giorni sarò impegnata a farlo sport e quindi stupidamente penserò a che video fare e scrivetemi i commenti che scherzi volete e challenge da fare ovviamente anche sfide come volete dovete essere voi a dirmi cosa vorreste fare oltretutto io sono noemi e la telecamera asia non c'è perché è andata a regresti quindi ovviamente tutto il giorno sarà impegnata e stavo pensando in più di mettervi un nome singolo per tutti voi ditemi voi anzi dovete scoprire che nome stavo pensando ciao